Buongiorno a tutti, siamo qui in Prima Commissione, una commissione straordinaria dove si parlerà del riordino imposto dalla legge regionale 22, cioè dovrà essere modificata questa legge sulla base della legge 56 del Rio che riordina il personale all'interno della legge. Però rimediamo delle criticità che poi vi eluceremo dopo la seduta. Ha detto praticamente tutto il collega Gabriele, ma come si dice sempre delle migliori Rai Stations, o meglio ancora Radio Stations, Stations, andiamo.